Quest'oggi siamo stati in avanti. Preto, uccidiamolo! Preto, dobbiamo farti scendere. Aggiungi la torre di lancio. Ferma uno scarab. Ti servirà per scendere nel canyon. Preto, dobbiamo farti scendere. Il riconoscimento del volto non ha ancora dato esimo. L'incontro è durato circa 5 minuti. Si sono scambiati un palco. Il soggetto si è quindi spostato al distretto 47. Il contatto visivo si è interrotto. Il drone spia ha registrato una conversazione tra il soggetto e un secondo uomo. È stato identificato come Zeus. Una trascrizione della registrazione è disponibile sul server della stazione file X-Ray 7 Gamma 5. Il soggetto si è trattenuto in loco per circa 7 ore. Zeus ha preteso con la forza una gratificazione fisica in cambio della promessa di assegnarle ulteriori incarichi. Il soggetto è quindi rientrato al suo domicilio. La sorveglianza si è conclusa alle 21.00, fuso standard. Zeus, qui 1-8. Mi ricevi? Passo. Zeus, rispondi. Passo. Lascio questo messaggio come testamento, nel caso non tornassi. Vecta sarà messa a ferro e fuoco. Gli oppressori annientati. Non ho nulla in contrario, perché la mia è una nobile causa. È stato Tiran a farcelo comprendere. Anche se viviamo tempi difficili, la vittoria porterà agli Elgast il benessere e la prosperità che meritano. Guardo con fiducia al giorno in cui i figli dei miei figli non sapranno cosa sia l'oppressione. E faranno parte di un mondo che li accetterà per quello che sono. Qualunque cosa diranno, qualunque menzogna spacceranno per verità. È importante che tu sappia che l'ho fatto per te e per i bambini. A tempo debito, la storia dimostrerà che eravamo nel giusto e che abbiamo agito da eroi. A tempo debito, la storia dimostrerà che eravamo nel giusto. A tempo debito, la storia dimostrerà che eravamo nel giusto. A tempo debito, la storia dimostrerà che eravamo nel giusto. Prima o poi i miei uomini ti troveranno. O sarà la popolazione a riconoscerti. Qualcuno ha visto il mio marito? Non! Sì, sì, sì. Comando, qui il Ripper 1. Posizione container city. Stato, nessun contatto. Ricevuto. Procedo di aggiorni. Chiudo. La milizia sta facendo proseliti. Ci sono simboli della Black Hand. Qui stiamo perdendo tempo. Nessun civile parlerà con noi. Ora obbediscono a tira. Se Visari non prende in mano la situazione, presto lo faremo anche noi. Grazie a tutti. 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 Ascoltami attentamente. Sarà il mio ultimo messaggio. Non ti chiamerò più. Sta diventando pericoloso. Prima i nuovi membri venivano reclutati senza tante domande, ma ora ci sono più controlli. Spesso tira non si presenta nemmeno più agli incontri. Se vuoi unirti, devi farlo solo. Non so per quanto potrò ancora intercedere. Contattami, non so per quanto potrò ancora intercedere. Contattami non appena ricevi questa registrazione. Non so per quanto potrò ancora intercedere. Non so per quanto potrò ancora intercedere. Delle informazioni per te, Marshall. Non so per quanto potrò ancora intercedere. attraversare il muro non è semplice. Scommetto che hai scelto la strada a ricordarti. Mescolarti ai traditori vissi alla porta dal tuo governo. Che coraggio! A quanto pare la VSA mi ritiene prezioso! Quadra 2 in posizione. In posizione. Il fianco è coperto. Noi le vedete! Uccidete l'uomo di Repta! Perciò io compito, è finito!